Ringraziamenti Se tutte le mogli amassero come lei, meno uomini cercherebbero distrazioni. Shelley e Derek sono ormai usciti dal nido, esplorano nuovi mondi, ma sono sicuro della sincerità del loro amore. Ne sono felice e grato. Devo molto ai professionisti che hanno contribuito alla costruzione del mio concetto di amore. Fra loro ricordo gli psichiatri Ross Campbell, Judson Sweehart e Scott Peck. Per l'assistenza nella stesura del testo ringrazio Debbie Barr e Kathy Peterson. La competenza tecnica di Trissia Cube e Don Schmidt mi è stata di grande aiuto. Infine, ed è la cosa più importante, voglio esprimere la mia gratitudine alle centinaia di coppie che negli ultimi vent'anni hanno condiviso con me aspetti personali della loro vita. Questo libro è un tributo alla loro onestà. Capitolo I Che cosa accade all'amore dopo il matrimonio? Mentre mi recavo in aereo da Buffalo a Dallas, un passeggero sconosciuto ripose la rivista che stava leggendo, si voltò verso di me e mi chiese Che lavoro svolge? Sono consulente matrimoniale e tengo seminari finalizzati a miglioramento della vita coniugale, risposi. Da tanto tempo vorrei porre una domanda a qualche esperto del settore. Che cosa accade all'amore dopo il matrimonio? Riprese il mio interlocutore. Abbandonando ogni speranza di poter schiacciare un pisolino, gli chiesi di chiarire quest'ultimo punto. Mi sono sposato tre volte. Ogni volta, prima del matrimonio, tutto era meraviglioso. Dopo, però, cambiava tutto. L'amore che provavo per mia moglie e che lei sembrava nutrire nei miei confronti svaniva. Sono una persona abbastanza intelligente. Ho successo nella professione. Non riesco a capire questi miei insuccessi matrimoniali. Per quanto tempo è stato sposato, chiesi. Il mio primo matrimonio è durato circa dieci anni. La seconda volta siamo stati sposati per tre anni. L'ultima per quasi sei anni. L'amore svanì subito dopo il matrimonio o si spense gradualmente, continuai. Il secondo matrimonio andò male fin dall'inizio. Non so che cosa accadde. Pensavo veramente che ci amassimo, ma la luna di miele fu un disastro. E dopo non riuscimmo a recuperare il rapporto. Eravamo stati fidanzati solo per sei mesi. Era stato un romantico turbine. Era entusiasmante. Dopo il matrimonio, però, il nostro rapporto fu una battaglia fin dall'inizio. Quando mi sposai per la prima volta, trascorsero tre o quattro anni prima che nascesse nostro figlio. Dopo la nascita del piccolo, mi sembrava che mia moglie dedicasse tutte le sue attenzioni a lui e che non le importasse più nulla di me. Era come se l'unico obiettivo della sua vita consistesse nell'avere un bambino e che dopo averlo avuto non avesse più bisogno di me. Ne parlò con sua moglie? Chiesi al mio interlocutore. Sì, glielo dissi. Diceva che non comprendevo lo stress che comportava occuparsi di un bambino 24 ore su 24. Affermava che avrei dovuto essere più comprensivo e aiutarla. Cercai di farlo, ma non sembrò che ciò determinasse cambiamenti. In seguito, iniziamo ad allontanarci l'uno dall'altra. Dopo un po', tra noi, non c'era più amore, ma solo indifferenza. Entrambi comprendemmo che il nostro matrimonio era finito. Pensavo davvero che il mio ultimo matrimonio sarebbe stato diverso. Ero divorziato da tre anni. Ci frequentammo per due anni. Pensavo che entrambi sapessimo che cosa stavamo facendo e per la prima volta credevo di comprendere che cosa significasse davvero amare qualcuno. Pensavo sinceramente che lei mi amasse. Dopo il matrimonio, non penso di essere cambiato. Continuavo a esprimere il mio amore a mia moglie come prima. Le dicevo che era bella, che ero fiero di essere suo marito. Pochi mesi dopo il matrimonio, però, lei iniziò a lamentarsi per ogni cosa. Inizialmente si trattava di piccolezze, come del fatto che non portavo fuori la spazzatura o non appendevo i miei vestiti. Successivamente cominciò a criticare il mio carattere, affermando che non riusciva ad accordarmi fiducia, accusandomi di non essere fedele. Il suo atteggiamento diventò totalmente negativo. Prima del matrimonio non era mai stata così. Era una delle persone più positive che io avessi mai incontrato. Questa era una delle caratteristiche che mi avevano attratto in lei. Non si lamentava mai di nulla. Qualunque cosa io facessi era meravigliosa. Una volta sposati, invece, sembrava che io non facessi nulla di buono. Onestamente non sapevo che cosa stesse accadendo. Infine, persi l'amore che avevo provato nei suoi confronti e iniziai a irritarmi con lei. Ovviamente lei non mi amava. Concordammo che vivere insieme non avrebbe portato più alcun beneficio a nessuno e ci separammo. Questo è accaduto un anno fa. La mia domanda, quindi, è che cosa accade all'amore dopo il matrimonio? La mia esperienza è comune? È questo il motivo per cui nel nostro paese si registrano tanti divorzi? Non riesco a credere che questo sia accaduto a me per tre volte. E le persone che non divorziano imparano a vivere con la loro insoddisfazione o veramente sono felici di vivere certi matrimoni? E se sì, come? Dobbiamo essere disponibili a imparare il linguaggio d'amore principale del nostro coniuge se vogliamo comunicare amore in modo efficace. La domanda del signore che era sistemato accanto a me in aereo è la stessa che si pongono oggi migliaia di persone sposate e divorziate. Alcuni lo chiedono a persone amiche, altri a consulenti o religiosi, altri ancora a se stessi. Talvolta le risposte sono espresse con un linguaggio tecnico quasi incomprensibile, talvolta in termini umoristici o folcloristici. La maggior parte delle barzellette e delle freddure contiene un po' di verità, ma è come offrire un'aspirina a un ammalato di cancro. Il desiderio dell'amore romantico nel matrimonio è profondamente radicato nella nostra psiche. Quasi tutte le riviste ad ampia tiratura presentano almeno un articolo in ogni numero su come mantenere vivo l'amore nel matrimonio. I libri sul tema abbondano. I talk show radiofonici e televisivi ne parlano. Mantenere vivo l'amore nei nostri matrimoni è un affare serio. Con tutti i libri, le riviste e l'aiuto concreto che tutti hanno a disposizione, perché sembrano così poche le coppie che hanno trovato il segreto per mantenere vivo l'amore dopo il matrimonio? Perché accade che una coppia frequenti un seminario sulla comunicazione, ascolti idee meravigliose per migliorare la comunicazione e si trovi completamente incapace di mettere in pratica i contenuti appresi? Perché leggiamo su una rivista un articolo sui 101 modi per esprimere amore al vostro coniuge, scegliamo due o tre indicazioni che sembrano particolarmente adatte a noi e il nostro coniuge non si rende neppure conto dei nostri sforzi. A quel punto rinunciamo agli altri 98 modi e ritorniamo alla nostra solita vita. Questo libro si pone di rispondere alle domande a cui si è accennato. I libri e gli articoli già pubblicati possono essere utili. Il problema è che abbiamo trascurato una verità fondamentale. Le persone parlano linguaggi d'amore diversi. Nell'ambito delle lingue, vi sono alcuni gruppi principali. Il giapponese, il cinese, lo spagnolo, l'inglese, il portoghese, il greco, il tedesco, il francese, l'italiano e così via. La maggior parte di noi, crescendo, apprende la lingua parlata dai suoi genitori e dai fratelli, che diventa la lingua madre. In seguito possiamo imparare altre lingue, ma in genere, per questo, è necessario compiere sforzi molto maggiori. Queste diventano seconde lingue. Parliamo e comprendiamo meglio la nostra lingua madre. Ci troviamo più a nostro agio, esprimendoci in questa lingua. Più utilizziamo una lingua straniera, più per noi diventa facile esprimerci in essa. Se parliamo solo la nostra lingua madre e incontriamo qualcuno che parla solo la sua lingua madre, diversa dalla nostra, la nostra comunicazione risulterà limitata. Dovremo servirci dei gesti, di certi suoni o di disegni per esprimere il nostro pensiero. Possiamo comunicare, ma in modo maldestro. Le diversità di lingua costituiscono parte della cultura umana. Se vogliamo comunicare in modo efficace a livello culturale, dobbiamo imparare la lingua delle persone con cui desideriamo comunicare. Nell'ambito dell'amore accade qualcosa di simile. Tra il vostro linguaggio d'amore emozionale e quello del vostro coniuge, può esserci la stessa differenza che esiste tra il cinese e l'inglese. Per quanto cerchiate di esprimere amore in inglese, se il vostro coniuge comprende solo il cinese, non imparerete ad amarvi. Il signore che avevo incontrato sull'aereo parlava alla sua terza moglie servendosi del linguaggio delle parole di rassicurazione, quando le diceva che era bella, la amava ed era fiero di essere suo marito. Esprimeva amore ed era sincero, ma sua moglie non comprendeva il suo linguaggio. Forse la donna cercava amore nel comportamento di suo marito, ma non ne vedeva. Essere sinceri non è sufficiente. Dobbiamo essere disponibili a imparare il linguaggio d'amore principale del nostro coniuge se vogliamo comunicare amore in modo efficace. Dopo vent'anni di attività di consulente matrimoniale, sono giunto alla conclusione che esistono fondamentalmente cinque linguaggi d'amore. Cinque modi di cui le persone si servono per esprimere e comprendere amore a livello emozionale. Nell'ambito glottologico, una lingua può presentare numerosi dialetti e diverse varianti. Analogamente, all'interno dei cinque linguaggi dell'amore esistono molti dialetti. Ciò dà ragione degli articoli intitolati 10 modi per far comprendere al vostro coniuge che lo amate, 20 modi per convincere vostro marito a rimanere a casa, 365 espressioni di amore coniugale. Non esistono 10, 20 o 365 linguaggi d'amore fondamentali. La mia opinione è che ve ne siano solo cinque. Tuttavia, possono esistere numerosi dialetti. Il numero dei modi che consentono di esprimere il proprio amore all'interno di uno specifico linguaggio ha come unico limite la propria immaginazione. L'importante è parlare il linguaggio d'amore del proprio coniuge. Da molto tempo, sappiamo che nella prima infanzia ogni bambino sviluppa modelli emozionali unici. Alcuni bambini, per esempio, sviluppano una scarsa autostima, mentre altri acquisiscono un adeguato concetto di sé. Alcuni elaborano un senso di insicurezza, mentre altri crescono acquisendo un senso di sicurezza. Alcuni bambini si sentono amati e apprezzati, mentre altri provano la sensazione di essere indesiderati e non amati. I bambini che si sentono amati dai loro genitori e da altre persone svilupperanno un linguaggio emozionale d'amore principale basato sulla loro formazione psicologica unica e sul modo in cui i loro genitori e le altre persone importanti hanno espresso loro il proprio amore. I bambini parlano e comprendono un linguaggio d'amore principale. In seguito potranno imparare un altro linguaggio d'amore, ma avranno sempre maggior facilità a usare il linguaggio principale. Anche i bambini che non si sentono amati dai loro genitori e da altre persone apprendono un linguaggio d'amore principale. Si tratterà però di un linguaggio distorto, come accade ai bambini che non imparano bene la grammatica e hanno un vocabolario limitato. Ciò non significa che questi bambini non possano imparare a comunicare bene. Dovranno però impegnarsi di più e con maggiore dirigenza rispetto ai bambini che hanno avuto un modello positivo. Analogamente, i bambini che crescono con un senso limitato e distorto dell'amore possono anche sentirsi amati e comunicare amore, ma dovranno impegnarsi di più rispetto a quelli che vivono in un ambiente ricco d'amore. Di rado, marito e moglie sono caratterizzati dallo stesso linguaggio d'amore principale. Ognuno di noi tende a esprimersi nel proprio linguaggio d'amore principale e ci sentiamo confusi quando il nostro coniuge non comprende ciò che comunichiamo. Esprimiamo il nostro amore, ma il messaggio non è efficace perché parliamo un linguaggio estraneo al nostro interlocutore. Il problema fondamentale sta qui e questo libro si propone di presentare una soluzione. E' questo il motivo per cui mi accingo a scrivere un altro libro sull'amore. Quando avremo scoperto i cinque linguaggi fondamentali dell'amore e avremo compreso il nostro linguaggio d'amore principale e quello del nostro coniuge, avremo le informazioni necessarie per mettere in pratica le idee che leggiamo nei libri e negli articoli pubblicati su questo tema. Quando identificherete e imparerete a usare il linguaggio d'amore principale del vostro coniuge, credo che avrete trovato il segreto per un matrimonio d'amore che duri a lungo. L'amore non svanisce necessariamente dopo il matrimonio, ma per mantenerlo vivo, molti di noi devono compiere lo sforzo di apprendere un ulteriore linguaggio d'amore. Non possiamo servirci della nostra lingua madre se il nostro coniuge non la comprende. Se vogliamo che il nostro marito o nostra moglie percepisca l'amore che cerchiamo di comunicare, dobbiamo esprimerlo nel suo linguaggio d'amore principale. Capitolo II Tenere alto il livello dell'amore La parola amore è la più importante della lingua italiana e anche quella che crea maggior confusione. I pensatori religiosi e laici sono concordi nell'affermare che l'amore svolge un ruolo centrale nella vita. Si dice che l'amore è una cosa meravigliosa e che l'amore fa girare il mondo. Migliaia di libri, canzoni, riviste e film fanno ampio uso del termine. Numerosi sistemi filosofici e teologici hanno dedicato particolare risalto all'amore. Il fondatore del cristianesimo volle che l'amore fosse la caratteristica distintiva dei suoi seguaci. Giovanni 13,35 Gli psicologi sono giunti alla conclusione che sentirsi amati sia una necessità fondamentale degli esseri umani. Per amore scaliamo montagne, attraversiamo mari, ci avventuriamo in deserti e tolleriamo avversità indicibili. Senza amore le montagne sarebbero invalicabili, i mari non potrebbero essere attraversati, i deserti sarebbero intollerabili e le avversità costituirebbero solo circostanze tristi della nostra vita. Rivolgendosi ai Corinzi, l'Apostolo Paolo esaltava l'amore quando affermava che ogni impresa umana non motivata dall'amore è in definitiva vana. Paolo concluse che quando il sipario sarà calato sulle vicende terrene rimarranno solo tre realtà, fede, speranza, amore, ma più grande di tutte è l'amore. Corinzi 13,13 Se siamo concordi nell'affermare che la parola amore permea la società umana, sia nella storia sia nel presente, dobbiamo anche convenire che il termine è molto confuso. Lo utilizziamo in mille modi. Diciamo amo la musica e subito dopo amo mia madre. Parliamo di attività che amiamo svolgere, il nuoto, lo sci, la caccia. Amiamo oggetti, cibo, auto, case. Amiamo animali, cani, gatti, piccoli volatili. Amiamo elementi della natura, alberi, prati, fiori e particolari climi. Amiamo persone, i nostri genitori, i figli, i parenti, il coniuge e gli amici. Ci innamoriamo perfino dell'amore. Come se ciò non generasse confusione a sufficienza, impieghiamo la parola amore anche per spiegare determinati comportamenti. L'ho fatto perché la amo. Una spiegazione di questo genere viene fornita per azioni di ogni genere. Un uomo che vive un'esperienza di adulterio può chiamare la sua vicenda amore. Il parroco, da canto suo, la definisce peccato. La moglie di un alcolista raccoglie cocci frantumati dopo l'ultima crisi di suo marito e definisce il suo comportamento amore. Uno psicologo, invece, lo definisce codipendenza. I genitori soddisfano tutti i capricci del figlio, chiamando o amore il loro atteggiamento. Il terapeuta lo definisce comportamento da genitori irresponsabili. Questo libro non si prefigge l'obiettivo di eliminare tutte le confusioni che caratterizzano la parola amore, ma si propone di analizzare un genere di amore che è essenziale per il nostro benessere emozionale. Gli psicologi infantili affermano che ogni bambino ha alcune necessità emozionali di base che devono essere soddisfatte, altrimenti la stabilità emotiva risulterà pregiudicata. Tra queste necessità fondamentali emerge il bisogno di amore e di affetto. di sentirsi accettati e apprezzati. Se riceve affetto in modo adeguato, il bambino probabilmente diventerà un adulto responsabile. Se non riceve amore, sarà ritardato a livello emozionale e sociale. Ho avuto occasione di ascoltare una metafora che mi è piaciuta fin dal principio. In ogni bambino c'è un serbatoio emozionale che richiede di essere riempito di amore. Quando un bambino si sente veramente amato, vivrà un'esperienza di normale sviluppo, ma quando il serbatoio di amore è vuoto, il bambino avrà un comportamento non corretto. La maggior parte dei casi di comportamento non corretto dei bambini è motivata dalle carenze determinate da un serbatoio d'amore vuoto. L'autore di questa metafora è il dottor Ross Campbell, uno psichiatra specializzato nell'ambito delle problematiche dei bambini e degli adolescenti. Mentre lo ascoltavo, pensavo alle centinaia di genitori che nel mio ufficio mi avevano presentato le malefatte dei loro figli. In quei bambini non avevo mai visualizzato un serbatoio vuoto, ma certamente ne avevo visto i risultati. I loro problemi comportamentali erano il tentativo maldestro di ricercare un amore che non sentivano. Cercavano amore nelle sedi sbagliate e nei modi sbagliati. Ricordo Ashley, che a 13 anni era in cura perché aveva contratto una malattia a trasmissione sessuale. I suoi genitori erano esterrefatti, erano adirati nei confronti della figlia, ce l'avevano con la scuola, che accusavano di aver fornito indicazioni sul sesso. «Perché lo ha fatto?» chiedevano. Nel cuore dell'esistenza di ogni persona vi è il desiderio di essere accolti e amati da un altro. Il matrimonio è finalizzato a soddisfare questo bisogno di intimità e di amore. Nel corso della conversazione che avemmo, Ashley mi parlò del divorzio dei suoi genitori, avvenuto quando lei aveva sei anni. «Pensavo che mio padre se ne fosse andato perché non mi voleva bene», mi disse. «Quando mia madre si risposò, io avevo dieci anni, pensavo che lei a quel punto avesse qualcuno che la amava, ma io non avevo ancora nessuno che mi volesse bene. Avrei tanto voluto essere amata». A scuola incontrai un ragazzo. Era più grande di me, ma gli piacevo. Stentavo a crederci. Era gentile con me, e presto pensai che mi amasse. Non volevo avere rapporti sessuali, ma volevo essere amata. Il serbatoio d'amore di Ashley era vuoto da molti anni. Sua madre e il suo patrigno pensavano a soddisfare le sue necessità materiali, ma non avevano compreso la grande battaglia emozionale che tormentava il suo intimo. Di certo volevano bene ad Ashley, e pensavano che la ragazza comprendesse il loro amore. Solo quando era quasi troppo tardi scoprirono che non si erano serviti del linguaggio d'amore principale di Ashley. La necessità emozionale di amore, tuttavia, non è un fenomeno tipico solo dell'infanzia. Permane anche nell'età adulta e nel matrimonio. L'esperienza dell'innamoramento soddisfa temporaneamente questa necessità, ma si tratta inevitabilmente di un fenomeno di durata limitata e prevedibile. Una volta scesi dalle vette dell'innamoramento, la necessità emozionale di amore riemerge, perché fa parte della nostra natura. È al centro dei nostri desideri emozionali. Avevamo bisogno di amore prima di innamorarci, e ne avremo bisogno finché vivremo. Il bisogno di sentirsi amati dal proprio coniuge è al centro della vita matrimoniale. Recentemente un uomo mi ha detto che importanza hanno la casa, le automobili, le vacanze al mare o qualsiasi altra cosa se nostra moglie non ci ama. Il significato profondo di questa espressione è più di ogni altra cosa voglio essere amato da mia moglie. I beni materiali non sostituiscono l'amore umano nella sua componente emozionale. Una moglie mi ha detto mio marito mi ignora per tutto il giorno e poi vuole fare sesso con me. Odio questo suo atteggiamento. Questa donna non odia la sessualità. È una moglie che cerca disperatamente amore. Qualcosa di intrinseco alla nostra natura anela all'amore di un'altra persona. L'isolamento è devastante per la psiche umana. È questa la ragione per cui l'isolamento totale è considerato la punizione più crudele. Nel cuore dell'esistenza di ogni persona vi è il desiderio di essere accolti e amati da un altro. Il matrimonio è finalizzato a soddisfare questo bisogno di intimità e di amore. Per questo gli antichi testi biblici parlano del marito e della moglie affermando che diventano una sola carne. Ciò non significa che gli individui perdano la propria identità. Significa che entrano in profondità e intimamente nella vita del coniuge. Gli scrittori neotestamentari chiedono ai mariti e alle mogli di amarsi. Da Platone a Pec tanti scrittori hanno sottolineato l'importanza dell'amore nel matrimonio. Se l'amore è importante è anche sfuggente. Tante coppie sposate mi hanno parlato del segreto dolore che le affliggeva. Alcuni sono venuti da me perché il dolore che li affliggeva nell'intimo era diventato intollerabile. Altri si sono rivolti a me perché hanno compreso che i loro modelli di comportamento o l'atteggiamento negativo del loro coniuge stava distruggendo il loro matrimonio. Alcuni mi informano semplicemente del fatto che non vogliono più essere sposati. Il loro sogno di vivere felicemente per sempre si è scontrato con la dura realtà. Tante volte ho sentito queste parole. Il nostro amore si è spento. Il nostro rapporto è finito. In passato ci sentivamo vicini ma ora non più. Non siamo più felici di stare insieme. Non soddisfiamo più le rispettive esigenze. Anche queste storie testimoniano del fatto che anche gli adulti come i bambini hanno serbatoi d'amore. È possibile che nell'intimo delle coppie in crisi esista un serbatoio d'amore emozionale invisibile che segna vuoto? I comportamenti negativi, la tendenza ad allontanarsi, le parole aspre e lo spirito di critica possono essere motivati da un serbatoio d'amore vuoto? Se troviamo un modo per riempire quel serbatoio, il matrimonio potrebbe rinascere? Con un serbatoio pieno, le coppie sarebbero in grado di creare un clima emozionale in cui fosse possibile discutere delle differenze e risolvere i conflitti? Quel serbatoio potrebbe essere la chiave che fa funzionare i matrimoni? Queste domande mi hanno spinto a compiere un lungo percorso. Strada facendo, ho acquisito le intuizioni semplici ma efficaci contenute in questo libro. Quel percorso mi ha condotto non solo a lavorare per vent'anni come consulente matrimoniale, ma anche a leggere nel cuore e nella mente di centinaia di coppie che si rivolgevano a me da tutta l'America, parlandomi apertamente. Le esperienze inserite in questo libro sono tratte dalla vita concreta. Solo i nomi di persone e luoghi sono stati modificati per garantire la privacy delle persone che si sono espresse con tanta libertà. Sono convinto che mantenere pieno il serbatoio dell'amore emozionale sia importante per un matrimonio quanto lo è mantenere il giusto livello dell'olio di un'automobile. Vivere il proprio matrimonio con il serbatoio d'amore vuoto può costare molto di più che cercare di guidare un'automobile senza olio nel motore. Le pagine che leggerete possono dare l'opportunità di salvare migliaia di matrimoni e possono anche migliorare il clima emozionale di un buon matrimonio. Qualunque sia ora la qualità del vostro matrimonio esistono sempre margini di miglioramento. Attenzione! Comprendere i cinque linguaggi dell'amore e imparare a usare il linguaggio d'amore principale di vostro marito o di vostra moglie potrebbe influenzare in modo radicale il comportamento del vostro coniuge. Le persone si comportano in modo diverso quando il loro serbatoio d'amore è pieno. Prima di esaminare i cinque linguaggi dell'amore tuttavia dobbiamo analizzare un fenomeno importante ma confuso l'esaltante esperienza dell'innamoramento. Grazie per aver ascoltato l'inizio dell'audiolibro puoi trovare la versione completa cliccando il link sotto il video Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video